Una sola vittoria nelle ultime cinque partite che nonostante i quattro impegni interni contro Nola, Sarnese e Team Altamura e Gelbison hanno fruttato cinque punti e un parziale allontanamento dalla zona playoff con un distacco che potrebbe aumentare in concomitanza con i recuperi delle partite rinviate per Neve nel primo weekend del 2019, su tutte quella tra Bitonto e Taranto. Non si può parlare di crisi ma quella della Fidelisandria è di certo una frenata, figlia in particolare dei tanti elementi ai box. Contro la Gelbison erano fuori Cipolletta, Gregoric, Giannini, Cristaldi e Bozic, oltre ad Adamo e Petrucelli che incrinerebbero le certezze di ogni big d'Europa a figurarsi di una rosa allestita in fretta e furia in estate e reduce da una prima parte di stagione ben al di sopra delle proprie potenzialità. A fronte di un attacco che ha perso smalto e sta pagando l'assenza di Bozic, cinque vittorie e nessun KO su sette partite sin qui giocate dal Croato e di Cristaldi a segno ben sei volte prima dell'infortunio patito a Gravina, la nota lieta per mister Potenza arriva dalla difesa. Rimasta imbattuta nonostante i cerotti contro una Gelbison in grado di segnare 12 reti in trasferta prima di restare a secco al Dei Ulivi. Tra le novità di formazione domenica c'è stato spazio anche per il mediano Vincenzo Carrotta. Il ventitrenne casertano arrivato dal Prato, ancora alla ricerca della miglior condizione, si è reso protagonista di un salvataggio provvidenziale davanti ad Addario nel primo tempo. Ho chiamato solo al mio compagno di squadra, al mio compagno vicino e lui ovviamente si è girato e anche un po' per colpa mia mi sentivo anche in dovere di fare quella corsa in più e per fortuna ce la siamo cavata. L'obiettivo salvezza con i sei punti di margine sulla zona play out è ampiamente alla portata del gruppo di Alessandro Potenza. Il girone di andata e la campagna acquisti di dicembre però hanno spinto ad alzare l'asticella, così il quinto posto può e deve essere uno degli obiettivi stagionali da inseguire senza ansie ma con la consapevolezza che il recupero degli infortunati potrà restituire alla Fidelis la fisionomia di quella squadra capaci di ottenere 12 risultati utili di fila tra il quarto e il quindicesimo turno e di sorprendere tutti. Il prossimo ostacolo si chiama Nardò Carrotta, diffida del gruppo di Taurino a meno uno in classifica ma con una giornata da recuperare e al derby chiede uno scatto in avanti. Come ogni derby è importante vincerlo soprattutto per tirare su quel morale che magari è quell'entusiasmo che in queste partite ci è mancato.